abitiamo di fronte all'interno abbiamo sentito la signora urlare e praticamente mia moglie si ha affacciato e ha visto che aveva preso fuoco qualcuno quindi tu abitavi alla porta a fianco no nel palazzo di fronte all'interno sono sceso da quinto piano a piedi e salito quinto piano di corso insieme io abito qua al porto nazionale due abitavamo ammari chiedere aiuto 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 grazie